Sono partite questa mattina all'ex Risto, punto vaccinale di Pesaro, le vaccinazioni per i cittadini di età compresa tra i 60 e i 64 anni. Circa 600 le persone attese in questa prima giornata di somministrazioni per gli over 60, a cui sono state riservate le dosi AstraZeneca. Le prenotazioni per questa fascia d'età, iniziate lo scorso sabato, avevano raccolto nella giornata di ieri già 34.000 adesioni a livello regionale. Un numero importante, ha ricordato l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini, visto che più o meno tutta la platea degli eventi diritto è composta da circa 50.000 persone, di cui 15.000 sono già state immunizzate poiché appartenenti ad altre categorie, come quelle degli insegnanti, delle forze dell'ordine o del personale sanitario. Sempre a partire da questa mattina, i cittadini marchigiani appartenenti alla fascia d'età tra i 50 e i 59 anni, con specifiche patologie senza elevato grado di rischio e non seguiti dalle strutture sanitarie, possono iscriversi alle liste di adesione per la vaccinazione tramite l'apposita scheda Azure presente sul sito della regione. Rientrano in questa categoria le persone con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete o altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale o patologie renali, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari e patologie oncologiche. Nei prossimi giorni verranno inoltre fornite ulteriori indicazioni dal servizio sanità della regione per attivare la prenotazione di tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni. Sempre Salta Martini ha poi ricordato come le vaccinazioni nelle marche seguono un doppio binario, quello dell'età e quello della fragilità. Ad oggi i familiari dei pazienti fragili che si sono prenotati e che devono essere vaccinati sono 12.000, mentre i caregiver a cui è stato somministrato finora il siero sono più di 11.800. A metà settimana è previsto un importante rifornimento delle dosi Pfizer e a fronte di ciò potrebbero essere somministrate nel prossimo weekend le dosi destinate ai caregiver mancanti sul territorio pesarese. Sembra tutto pronto inoltre per l'entrata in funzione del nuovo punto di vaccinazione a Gradara. Il 15 maggio è la data prevista per l'inizio delle somministrazioni nel nuovo hub, mentre il bacino d'utenza interessato riguarda i residenti di Gradara, Gabice Mare e Tavuglia. La prenotazione avverrà sempre tramite il portale delle poste e in base al numero di vaccini disponibili saranno attivate le postazioni all'interno del centro, che da due potrebbero diventare quattro.